Tanto atteso dai residenti è quasi ultimato il nuovo ponte San Carlo nel quartiere di Borgo Minonna che collega la parte sud di Iesi con il resto della città. A confermarlo l'assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici Valeria Melappioni. Un traguardo importantissimo, quello che si raggiungerà da qui a pochi mesi. Siamo in dirittura d'arrivo, ad oggi è in completamento la parte dell'armatura, quindi della parte in ferro sopra i pannelli del solaio che abbiamo finito di montare la settimana scorsa. Quest'armatura è oltre la metà. A iniziare dalla prossima settimana sarà il momento del getto, del getto del solaio in calcestruzzo armato. Quindi via via è in corso di completamento. Siamo in dirittura d'arrivo, quindi sappiamo benissimo i sacrifici che abbiamo chiesto ai cittadini, ai costi per la comunità, soprattutto del territorio di Minonna, ma contenti di dire che siamo in dirittura d'arrivo. Quindi dicembre 2024, giusto? Assolutamente dicembre 2024. Questi sono i tempi che abbiamo dato all'ultimo incontro pubblico e questi sono i tempi che ad oggi possiamo rispettare. Ovviamente voglio dire che ci sono i previsti del meteo, ma ad oggi tutto ci fa dire, tutto collabora per dire che siamo in dirittura d'arrivo, rispettando i tempi che abbiamo detto all'Assemblea pubblica. Il ponte era stato chiuso a settembre del 2023 con inevitabili disagi al traffico. Si pensa anche ad un evento pubblico per inaugurare il nuovo ponte. Faremo un'inaugurazione, sono sincera, la organizzeremo nel momento opportuno perché oggi siamo concentrati a lavorare su far sì che tutto possa procedere al meglio. Anche perché dietro il lavoro fisico c'è un lavoro di tecnico amministrativo per seguire il tutto e di sicurezza veramente importante. Quindi anche i nostri uffici sono impiegati a questo. Però sarà un momento importante in cui in qualche maniera anche fisicamente tutta la comunità cittadina si ricollega e quindi dovremo dare il giusto peso al momento del rito. Diciamo così, al momento del rito.